Arresti e denunce per maltrattamenti nei confronti delle proprie compagne in provincia di Padova. Alla stanche è stato arrestato un 43enne moldavo che ha aggredito anche i carabinieri accorsi dopo la richiesta d'aiuto della moglie. L'altro caso a Cittadella, dove è stato rintracciato dalle forze dell'ordine un 46enne ritenuto responsabile di un'aggressione nei confronti della convivente, a seguito della quale la donna era dovuta ricorrere alle cure dell'ospedale con una prognosi di 10 giorni.